Musica Non c'è tregua neanche a Natale per i malviventi. Nella notte tra sabato 22 e 23 dicembre c'è stato l'ennesimo furto in casa a Oristano. Infatti i dei ladri sono entrati in un'abitazione di via Toscanini nel quartiere di San Nicola. Il bottino però è stato piuttosto magro. Nel sacco hanno potuto mettere solo un orologio, dato che i proprietari, già vittima di un furto qualche tempo fa, avevano preso l'intelligente decisione di non lasciare più nessun oggetto di valore all'interno della casa. La famiglia al momento del furto fortunatamente non era presente e si è resa conto del colpo messo a segno soltanto al suo rientro a casa. Chiamato il 112 sono stati alcuni agenti delle volanti della polizia a intervenire sul posto e a fare i primi accertamenti. Ma non è finita qui. Nella giornata di domenica anche un'anziana donna è stata derubata. La signora stava entrando nella chiesa di Sili per prendere parte alla messa quando è stata scippata da qualcuno, ma non si conoscono altri dettagli in merito. Ciò che è certo è che l'escalation di furti nella città di Eleonora è in continuo aumento e che questo 2018 è stato tragico, in quanto sono numerosissime le famiglie e le abitazioni colpite in tutto Oristano e in modo particolare nel quartiere di Torangius. Domenica 23 dicembre i carabinieri di Ghilarza hanno tratto in arresto SDG, 18 anni, residente a Ghilarza, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo, seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di cannabis indica, suddivisa in buste di cello termosaldate, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della sostanza da spacciare. Lo stupefacente e il bilancino sono stati posti sotto sequestro. Stamattina SD è comparso in tribunale a Oristano e ha pateggiato una pena di 5 mesi e 10 giorni e 600 euro di multa, con pena sospesa. Ennesimo episodio di violenza sulle donne l'Euristanese. PG, residente a San Nicolò d'Arcidano, è stato arrestato perché è ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex compagna. Il fermo è avvenuto venerdì 21 dicembre a San Nicolò in esecuzione di un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. PG, già noto ai militari, dall'agosto dell'anno scorso aveva avuto condotte minacciose e vessatoria nei confronti della sua ex. La donna aveva sviluppato un grave stato d'ansia e temeva per la propria incolumità. Il 9 ottobre scorso l'uomo era stato arrestato in fragranza di reato di atti persecutori e si trovava attualmente sotto posto al provvedimento di divieto di dimora ad Arcidano. La misura è stata più volte violata, tanto da far scattare la richiesta per un nuovo provvedimento, i domiciliari. Sempre venerdì 21 dicembre i carabinieri di Santurussurgiu hanno arrestato B.D., destinatario di un ordine di esecuzione pena. Deve scontare un anno e sei mesi per maltrattamenti contro familiari o conviventi. I reati sono stati commessi tra il 2010 e il 2017. L'uomo è stato portato al carcere di Massama. Continui maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio disabile, un incubo che finalmente ha conosciuto la parola fine. Fondamentale è l'intervento del centro antiviolenza di Oristano. Tutto inizia col trasferimento nella casa seta nelle colline della Marmilla, una semplice abitazione trasformata in una vera e propria prigione. L'uomo padrone abbandonava la casa sin dalle prime ore del mattino e vi faceva rientro la sera. Dentro vi passavano ore lunghissime e solitarie la moglie e il figlio impossibilitati a lasciarla per via della disabilità del ragazzo. E perché alla donna non erano state date le chiavi. Non vi era acqua e neanche un telefonino. Arriva finalmente il momento in cui le cose cambiano. Il marito lascia il telefono a casa, il momento giusto per chiamare il centro antiviolenza. Prendono il via i primi interventi. Tante le prove raccolte. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. La donna e il ragazzo disabile sono stati portati via dalla casa maledetta e portati in un luogo sicuro. Ora l'uomo padrone si trova nelle mani della giustizia. Era nelle previsioni, se non scontata, la discesa in campo di Mauro Pili, quale candidato a governatore della Sardegna. La sua investitura è stata ufficializzata domenica a Ghilarza nel luogo simbolo della Torre Aragonese, durante una motivata assemblea di sostenitori e della componente di Progress con la quale Pili, che guida il movimento di Unidos, ha stretto un'alleanza che coinvolge anche diversi militanti che hanno lasciato il partito sardo d'azione. Partendo da presupposti che, secondo Mauro Pili, sono diversi come sostanza e scenari di collocazione, l'ex sindaco di Iglesias, cresciuto all'interno di Forza Italia, ripete di fatto l'esperienza delle regionali del 2014, quando scese in campo con Unidos, Forza Varisi, Soverania e una lista con il suo nome, raccogliendo 37.000 voti e il 5,43% dei voti. Un risultato che fece la differenza, consentendo l'affermazione del centro-sinistra con Francesco Pigliaru e la sconfitta di Ugo Cappellacci, un risultato che il centro-destra non gli ha mai perdonato. In politica, Mauro Pili è figlio d'arte. Suo padre Domenico, negli anni Ottanta, è stato assessore regionale ai lavori pubblici e all'agricoltura per il Partito Socialista. Giovanissimo, dal 93 al 99, è stato sindaco di Iglesias e dal 2001 al 2003, presidente della regione, successivamente deputato per tre legislature. Ora i candidati alla guida della regione sono cinque. Andrea Murgia per autodeterminazione, che riunisce i movimenti indipendentisti. Mauro Zedda, centro-sinistra e progressisti di Sardegna, Paolo Maninchè da Partito dei Sardi, Cristian Solinas per il centro-destra, mentre non si esclude anche la candidatura del magistrato di Bosa, Ines Pisano, che ha sostenuto essere impegnata a costruire il liste con una forte e significativa connotazione femminile. La speranza era che almeno prima delle festività la situazione acqua potabile a Oristano potesse tornare alla normalità. Invece, mezza città continua a rimanere a secco, o meglio, l'acqua c'è ma non si può utilizzare per scopi alimentari. E i cittadini sono costretti a rifornirsi presso gli autobotti messi a disposizione da Banoa nei diversi punti. Le zone interessate sono in modo particolare la parte nord e la parte ovest della città, quindi il quartiere di Torangius, San Rodia e quello delle regioni, gran parte del centro storico, la piazza Manno, la zona all'ottizzazione Coalbu, via Cagliere e Iperstanda. Anche le frazioni di Massa e Menoraginiedu vivono questo stato di disagio già da un mese e mezzo, per non parlare poi del comune di Sia Maggiore, la cui popolazione sta andando avanti a forza di bottiglie e bidoni riempiti dalle cisterne mobili del gestore unico da più di due mesi. Ma se per Oristano e Frazioni il motivo sta nella turbidità che dipende dalle piogge che hanno sporcato le fonti di Baunow e Santumiali, a Sia Maggiore che si alimenta dalle stesse fonti si aggiungono anche i lavori che a Banoa sta eseguendo per il miglioramento della rete idrica. Alcuni cittadini del paese raggiunti al telefono hanno dichiarato di essere abbastanza sereni, in quanto questi lavori erano necessari, ma lamentano comunque il fatto che spesso, oltre a dover andare quasi ogni giorno a prendere l'acqua per cucinare, si ritrovano senza acqua per potersi lavare anche in orari improponibili. Speriamo che la situazione torni alla normalità, perché stiamo iniziando a stancarci. La spinosa questione dell'accoglienza degli emigrati è stata l'oggetto di un consiglio comunale appositamente convocato. A sollevarla il capogruppo di minoranza, Maria Luisa Muzzu, che soprattutto, riferentesi al decreto sicurezza, ha definito il CPR da realizzare nell'ex carcere di Macomer, che porterebbe a 180 agli ospiti una bomba sociale. Tutta la vicenda dell'accoglimento degli emigranti a Macomer è stata ripresa dal sindaco Antonio Succu. All'inizio sembrava che l'Unione dei Comuni del Margheri avesse risolto il problema brillantemente con la microaccoglienza diffusa, definita a SPRAR, sebbene non tutti i comuni vi abbiano aderito. In base a precisi parametri, a Macomer avrebbero trovato rifugio una trentina di persone. In effetti, tre famigliole, dopo qualche digressione, risiedono in città ed è iniziato un processo di integrazione. Prima però è stato scongiurato il tentativo, per ben due volte, dall'apertura di un CAS, strutture che sono dei veri e propri ghetti e che si presentano a speculazioni se i gestori sono disonesti. In un secondo momento è giunta la notizia della progettazione di un CPR nell'ex carcere, dopo l'esclusione di quello di Iglesias. All'inizio la notizia, tutto sommato, non era stata presa male dall'amministrazione che da tempo pensava alla riutilizzazione della struttura, facendo anche delle proposte e pensando alla creazione di posti di lavoro. La cosa non era invece gradita alla minoranza di allora che vedeva come quella di adesso il CPR come dei ghetti. A creare qualche apprezzione è stato ultimamente il decreto sicurezza che promette di portare gli ospiti della struttura da 100 a 180 e a raddoppiare il periodo di permanenza. Ci si è messa poi la trasformazione della protezione umanitaria che, così com'è, promette di espellere una grande quantità di immigrati che, si teme, vagheranno all'esterno. A questo si aggiunge che ancora non si vedano le misure di sicurezza che non sono state promesse, come il ritorno della Guardia di Finanza e il potenziamento delle forze dell'ordine, nonché altre misure di sorveglianza. A questo punto il capogruppo della maggioranza Gianfranco Congio ha presentato un ordine del giorno che, in sostanza, chiede che vengano rispettati i patti già stipulati nella prima fase tra governo, regione e comune di Macomer. Neanche questa formulazione ha però convinto il gruppo di minoranza Uniamoci per Macomer e di rappresentanti di 5 Stelle Maurizio Cossu. Tra il pubblico è invitato a partecipare anche l'ex sindaco Giuseppe Ledda, anche egli contrario al CPR, che ha ricordato la richiesta di referendum affacciata dalla minoranza nella scorsa legislatura. Alla fine i gruppi di opposizione sono usciti dall'aula perché comunque contrari alla realizzazione della struttura anche con le garanzie richieste nell'ordine del giorno. Comunque vada la questione dell'accoglienza dei migranti si presenterà sempre. Il fenomeno che è stato definito epocale e che ormai attraversa tutto il pianeta è particolarmente sentito in Italia che sta di fronte all'Africa, continente dove avviene un quarto di tutta la naturalità del mondo, afflitta da carestie e regimi corrotti e sanguinari. Coniugare la solidarietà alla sicurezza, come dice il Papa, sarà inevitabile. Christmas Clean Station, tradotto Stazioni Pulite a Natale, è questo il nome usato per l'operazione portata avanti dalla Polizia Ferroviaria dell'Isola lo scorso fine settimana in tutte le stazioni ferroviarie sarde, con l'obiettivo di assicurare la serenità e la sicurezza negli spostamenti dei viaggiatori in vista delle festività natalizie. A Oristano 5 gli agenti in azione che hanno presidiato lo scalo ferroviario e identificato 69 persone. L'attività operativa è stata incentrata soprattutto sulla prevenzione dei comportamenti antigiuridici e incivili, il controllo dei bagagli e la vigilanza nelle aree di transito dei viaggiatori. Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di prevenzione per il contrasto dei reati predatori, incrementando l'impiego di personale di scorta e convogli, sensibilizzando i viaggiatori al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari e vigilando sulla loro incolumità. Non di secondaria importanza è stato il supporto delle nuove dotazioni tecnologiche. Infatti l'utilizzo degli smartphone di ultima generazione ha permesso l'identificazione immediata dei soggetti controllati. L'incisività e il rafforzamento della vigilanza negli ambiti territoriali di competenza, l'incremento delle pattuglie e la grande professionalità degli operatori sono la formula ormai consolidata del compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna per garantire la sicurezza e trasmettere l'alto valore istituzionale della specialità nella percezione comune. Stati maggiori del sistema Arborea riuniti nella sala del centro Chiere e con il sindaco Manuela Pintus, i presidenti della 3A, Gianfilippo Conto, Luciano Sgarbossa, Banca di Arborea e Gianni Sardo, cooperativa produttori. Con loro i direttori Francesco Casula, Sandro Cigagna, Marco Peterle e una platea composta dai soci appartenenti alle tre realtà economiche. L'occasione e l'incontro di fine anno per un saluto ed una valutazione dei percorsi aziendali con la 3A che ha assunto una dimensione produttiva nazionale ed un mercato internazionale, mentre la Banca di Credito Cooperativo ha consolidato ed esteso la sua produttività alla iniziale storica sede di Arborea, si sono aggiunte le filiali di Terralba, Marrubio, Uda, Smogoro, Guspini, Santa Giusta e Donigala, mentre la cooperativa produttori ha migliorato il proprio trend e i servizi. Se questi sono i punti di riferimento del sistema economico locale, nelle loro valutazioni i tre presidenti hanno dedicato attenzione a due aspetti principali che poi sono comuni anche ad altre realtà e ad Arborea sono più evidenti e caratterizzanti per le peculiari specificità del suo insediarsi e sviluppo. Si tratta del problema giovanile e dell'aderenza ai valori della terra che deve essere vissuta ricordando i sacrifici del passato con l'arrivo e l'insediarsi dei primi mezzadri. È stato detto che nei settori produttivi occorre arginare possibili forme di disgregazione, lavorando per attribuire certezze all'impegno nelle campagne e nelle fattorie, un sistema che assicura prospettive, un appello che nasce dal riconoscere che esistono difficoltà nei ricambi generazionali che Arborea intende affrontare oggi con iniziative e azioni che andranno meglio definite nell'immediato futuro. Grazie Grazie Grazie